Benvenuto in questo Virtual Tour, io sono Angelo Camilleri Addis, Mister Affitti Brianza e ti porto in visita in un appartamento monolocale arredato a Seregno, vicinanza e centro. Zona esterna di corte, curata e ristrutturata, ingresso all'appartamento su vano open space composto da una zona giorno con cucina completa di elettrodomestici, postazione e televisione e tavolo da pranzo. Proseguendo abbiamo la zona notte con letto matrimoniale contenitore e armadiatura ponte, disimpegno con postazione lavatrice e bagno con sanitari e doccia. Per tutti i dettagli su questo immobile visita il sito www.desio.solaffitti.it Per la cottura dell'affitto visita il blog www.misteraffittibrianza.com Solo Affitti, affittare con sicurezza.